Buongiorno signore. Buongiorno, siamo qui in piazza Veniero pronti per il Gran Fondo, 110 km. Ci auguriamo che non siano di pioggia, abbiamo intorno a noi una serie di personalità importanti, Antonino, Fato, Ruso e poi il direttore di gara e poi c'è tutto un dispiegamento di automezzi, la auto del direttore di gara, della vice direttrice che è qui, una gentile figliura con le carbonelle sotto i piedi per questa giornata non felice meteorologicamente. A Gerola è nella nebbia, in questo momento alle 7 di stamattina c'era una visibilità ridotta a 150 metri. Ci auguriamo che con l'alzarsi del sole si diradi. Il percorso ce l'ha già raccontato Stefano ieri, uno degli organizzatori attivissimi e dovrebbero arrivare nel giro di pochi minuti le prime biciclette per approntarsi alla partenza. Il primo è già qui, ti auguri il merito. Adalino, ci dai il piacere della tua compagnia per un caffè? Terminato.